La separazione è sempre un trauma, soprattutto quando ci sono i bambini di mezzo. Riuscire a ristabilire gli equilibri per non pesare sui figli è veramente difficile dopo le separazioni. Troppo spesso anche gli avvocati portano a conclusioni estreme, ad una rabbia che non ti puoi permettere, perché quando coinvolgi la vita dei figli non puoi permetterti quello che succede tante volte. Le guerre a oltranza non aiutano, anzi danneggiano Certo, ma secondo lei la lentezza che ha la giustizia può essere anche determinata dal fatto che in Italia su 60 milioni di abitanti ci sono 250 mila avvocati, in Francia ci sono addirittura circa quasi 61 milioni di abitanti e sono in 30 mila di avvocati. Ma vedi non è tanto la quantità dell'avvocato, secondo me può essere proprio, intanto l'avvocato te lo scegli in genere e allora se vuoi fare una guerra vai da quello che ti assicura la guerra. Se invece vuoi risolvere il problema con intelligenza e non danneggiare tuo figlio cerchi le soluzioni più intelligenti. È che sono percorsi che si delineano a volte con grandi difficoltà. Non è facile ottenere i risultati che forse ti proponi, per cui spesso poi ti trovi in un mondo sconosciuto in cui non sai come comportarti. Sicuramente l'interesse del figlio dovrebbe prevalere su tutto. Come dice il libro che è molto importante, il messaggio secondo me che dà, non puoi per la tua rabbia di moglie magari frustrata che magari ha ragione non puoi togliere dalla vita di tuo figlio il padre che può essere un buon padre. Certo. Quindi il figlio finirebbe poi per pagare gli errori non suoi ma tuoi ed è una cosa grave quella di cui non ti sarà grato. Senz'altro. L'ultimissima domanda. Lei da professionista accreditata, stimata, quali sarebbe il percorso che sarebbe giusto tracciare per sciogliere questi nodi, per fronteggiare in modo adeguato e concreto questi nodi? Ma intanto cominciare a ragionare quando ti sposi, perché io vedo che molte persone si sposano e mettono al mondo un figlio senza alcuna vera consapevolezza, cioè con leggerezza quasi, con una facilità che poi paghi col tempo. Un po' di maturità a volte non guasta, sicuramente poi tutto il resto viene da sé e deve essere una... cioè si deve maturare purtroppo si matura a volte con dolore. Certo, quindi ci vorrebbe una sorta di processo di sensibilizzazione. Sì, si vuole sensibilizzazione. Io a volte esagero però dico sempre che quando due si sposano prima invece di fare un corso per matrimonio dovrebbero fare un corso per separazione, cioè capire che ti sposi, ma se non va tutto bene poi che cosa devi fare? Allora ragionaci prima per non ragionarci male dopo. Grazie